ciao a tutti è un piacere essere qui con voi io sono Rossella Pani e sono qui mi trovo qui con Giovanna ciao Giovanna ciao a tutti ci vuole lasciare la sua testimonianza sul percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce Giovanna com'è andata dimmi un po' è andata veramente bene io non sono in questo settore faccio tutt'altro però mi è servito tantissimo mi sta servendo veramente molto perché ho capito qual è l'importanza delle preghiere soprattutto la preghiera di questo arcangelo che da piccolini conosciamo però magari non non ci passano tante informazioni è questo modo di guarire queste guarigioni che si possono fare attraverso queste preghiere attraverso questa questa luce e cosa ne pensi delle frequenze come le percepisci tu nelle mani nelle mani si percepisce un piscicorino un piscicorino forte proprio come un'energia un'energia che sta passando dentro di te ed è un tramite proprio si sente a livello proprio fisico fisiologico e tu che beneficio hai avuto da queste frequenze personalmente ascolta da quando faccio le preghiere tutti i giorni e alle persone a cui ho fatto questa guarigione anche a me stessa ci sono stati dei cambiamenti veramente dei cambiamenti positivi è una cosa che lì per lì magari non è facile a credere però ti posso assicurare che se si fa è una cosa reale aiuta veramente le cambiano le energie le situazioni cambiano ma in quanto meno se lo aspetti proprio le situazioni cambiano bene quindi cambia anche degli aspetti della vita che cambiano giusto inizia a vibrare in un'energia superiore quando si entra nella vibrazione della luce tutto attorno prende questa energia e si allontanano anche le situazioni o le persone che non sono vicine alla luce esatto spontaneamente quindi in modo spontaneo bene a chi consiglieresti questo percorso giovanna a a chiunque ripeto io non sono del sessore quindi a chiunque a qualsiasi persona che ha bisogno di guarire personalmente ha bisogno di connessersi con il divino e ha bisogno di uno strumento ok che che ti dà delle delle capacità proprio tramite l'attancello Michele che altrimenti non avresti io ricordo che tu durante il percorso facevi delle facce che rimanevi sorpresa affascinata eri entusiasta no di questo lavoro vero perché è una cosa così semplice sì è vero non lo so alle volte si ci immaginano che quando fai un posto eh un po' devi studiare o devi avere delle delle appinenze o devi 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 fare un qualcosa di particolare è una cosa semplice è una cosa semplice che però senza il corso tu non la sapevi fare giusto certo una cosa semplice che senza queste nozioni non le conoscevo certo quindi è semplice lo potrebbero fare lo potrebbe fare chiunque praticamente chiunque chiunque bene bene io ti ringrazio grazie per la tua testimonianza eh veramente preziosa eh ti saluto e ti auguro di usare questo dono meraviglioso per aiutare il maggior numero di persone possibile cara giovane ti ringrazio grazie a te ciao 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 ciao